La gestione del rischio è uno dei pilastri non soltanto sui quali si è appoggiata l'attività dell'agricoltura in questi anni, ma lo sarà soprattutto in futuro. Cambiamenti climatici, instabilità anche dei mercati, lo stiamo vivendo purtroppo con la guerra, fanno proprio propendere per un utilizzo sempre maggiore di questi strumenti. La provincia è al fianco del consorzio di difesa e soprattutto nell'attivazione di misure che possano sostenere la sostenibilità economica in primo luogo delle nostre aziende. Lo abbiamo fatto in occasione anche del settore zootecnico, lavorando tutti insieme, quindi mondo agricolo e provincia, proprio per dare delle risposte. Su questo fronte dovremmo comunque portare avanti ulteriori ragionamenti, cercando di destinare queste risorse proprio anche a fianco della ricerca. Quindi gestione del rischio, ricerca e innovazione saranno ovviamente le chiavi di lettura, i pilastri sui quali dovremmo basare la nostra attività nei prossimi anni.